Abbiamo avuto poeti, abbiamo avuto assoli e ora addirittura, signore e signori, un quartetto Volevano farsi chiamare il quartetto Ciccia, si sono guardati in faccia e qualcuno ha detto forse è meglio che ci facciamo chiamare il quartetto Ciccia Ci cantano una canzone bellissima di Lucio Dalla, 4 marzo 1943 Loro sono Oscar, Angelo, Alberto e Gigi, signore e signori, 4 marzo 1943 Vai, Alberto Dice che era un bel uomo e veniva, veniva dal mare Parlava un'altra lingua e non sapeva mai E quel giorno lui prese mia madre sopra un bel prato L'ora più dolce, prima di essere appazzato Alleluia Eppure il palese Aspettò come un dono d'amore Vino dal primo mese Comprima 16 anni Era un giorno la mia mamma E storia di tabella E canto a mia mamma E stringendomi al petto Mi sapeva, sapeva di male Giocavo a parra donna Con il primo da fasciare E forse tu per gioco O forse per amore E mi potrei chiamare Come nostro signore Alla sua breve vita Il ricordo, il ricordo più grosso E punto in questo nome Che io mi avvolto al nostro E ancora adesso che gioco a carte E vero vino Per la gente del porto Mi chiamo Gesù Bambino E ancora adesso che gioco a carte E vero vino Per la gente del porto Mi chiamo Gesù Bambino E ancora adesso che gioco a carte E vero vino Per la gente del porto Io mi chiamo Gesù Bambino Grazie! Grazie! Adesso aggiorno Sì! 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 Che ossa! Bravissimi! Signore e signore! Un applauso! Grazie!